Incidente mortale ieri mattina sulla Sciacca Caltabellotta. La vittima si chiamava Benito Perlegrino, un'ottantenne saccense. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un'altra macchina che procedeva in direzione opposta. E' un autobus della ditta Gallo Sais che era appena partito da Sciacca. Stamattina è stato coinvolto in un altro incidente che si è verificato lungo la Fondovalle. Un tamponamento che ha causato un ferito e di soccorso atterrato poco vicino. Presentato ieri mattina il progetto Sciacca Cinque Sensi, che era gruppo operatori interessati al recupero del centro storico, un vero e proprio museo diffuso. Facciamo rete contro le differenze politiche, dice Viviana Rizzuto. E' molto più scura del solito l'acqua che finisce sulla riva del mare tra Stazzone e Lidosalus. Sono i reflui provenienti dal torrente Can Salamone. Accade in attesa del via e progetti per l'ampliamento della funzionalità del depuratore. Da quattro mesi la zona di San Giorgio è senza acqua. Residenti esasperati che hanno diffidato il gestore a ripristinare al più presto l'erogazione idrica, chiedendo anche l'intervento del sindaco di Sciacca e del prefetto di Agrigento. Si è parlato di stalking stamattina al liceo classico Tommaso Fazzello in un incontro al quale hanno relazionato il giudice del tribunale di Sciacca, Alberto Davico, e il presidente emerito della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. Ben trovati al consueto appuntamento con la nostra informazione. È stata un'altra domenica di sangue sulle strade agrigentine, in particolare sulla provinciale 37 Sciacca-Caltabellotta. Nello scontro tra due auto ha perso la vita il saccense Benito Perlegrino, di 80 anni, che era alla guida di una Fiat Panda. L'incidente è avvenuto ieri mattina in località Cotonaro-Levanchi, nel territorio di Caltabellotta. La Panda, guidata dal saccense, si è scontrata con un appunto guidato da un impiegato, 51enne di Caltabellotta, che ha riportato solo delle ferite e contusioni. Per Benito Perlegrino, invece, non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo e i sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto per i rilevi di rito sono intervenuti i carabinieri. Un autobus della ditta Gallo-Sais, proveniente da Sciacca, è stato coinvolto in un incidente che si è verificato lungo la Fondovalle. Ad avere la peggio, il conducente di un'autovettura è rimasto ferito. Sentiamo. La dinamica esatta dell'incidente che si è verificato questa mattina lungo la strada statale 624, meglio nota come Fondovalle-Sciacca-Palermo, è tuttora al vaglio dei carabinieri. Ma stando alle prime ricostruzioni dei fatti, un autobus della ditta Gallo-Sais, che era partito poco prima da Sciacca, si sarebbe schiantato contro la vettura che lo precedeva, nell'ambito di quello che sembra essere stato il più classico dei tamponamenti a catena, scaturito stando a quanto trapela dall'attraversamento della strada da parte di un cane randaggio. La prima delle tre automobili che stavano sopraggiungendo ha dovuto rallentare improvvisamente, evidentemente per evitare di investire l'animale. Il bus, pieno di studenti e pendolari, ricordiamo che lunedì mattina i pullman si riempiono fino all'ultimo posto disponibile, ha investito in pieno un'auto guidata da un giovane. Immediati sono stati i soccorsi con un elicottero del 118 che in breve, dopo l'allerta lanciata tramite telefonino da un automobilista di passaggio che aveva appena assistito alla scena e atterrato a poca distanza dalla carreggiata. È immaginabile che se dentro l'auto investita ci fossero stati altri passeggeri, soprattutto nel vano posteriore, probabilmente per loro non ci sarebbe stata alcuna possibilità di sopravvivere. Per fortuna le cose sono andate in maniera diversa. Il ferito, che dunque viaggiava da solo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, era cosciente ma probabilmente a destare preoccupazione sarebbero le condizioni del bacino. Sono in corso, ovviamente, tutti gli accertamenti del caso. I momenti successivi all'incidente, che sono quelli che vi stiamo mostrando in queste immagini, sono stati documentati dal giornalista Saccenze Sino Lentini che si stava proprio recando a Palermo. Immagini che rivelano momenti di giustificabile concitazione e preoccupazione a cui hanno fatto seguito gli inevitabili disagi scaturiti dagli incolonnamenti di vetture da e per Palermo. Indagini in corso da parte dei carabinieri della tenenza di Ribera per individuare i due individui che sabato scorso hanno tentato di forzare una delle porte laterali dell'ufficio postale di Piazza Capelvenere nell'intento di introdursi all'interno dei locali dove i dipendenti stavano per chiudere l'ufficio. È successo intorno alle 14. Le porte principali dell'ufficio postale erano già state chiuse. I rumori provenienti dall'esterno hanno messo in allarme il personale che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I due individui che pare avessero il volto coperto resisi conto che l'impresa era ardua si sono allontanati prima dell'arrivo dei militari dell'arma. A Canicatti invece è stato arrestato il presunto autore della tentata rapina ad una donna del luogo, una quarantenne che stava prelevando del denaro contante ad uno sportello post-mat. È stato aggredito alle spalle ma il malvivente ha calcolato male i tempi. La donna non aveva ancora digitato il PIN e quindi non aveva nulla in mano e ha avuto anche la prontezza di mettere in fuga l'uomo e chiamare i carabinieri raccontando loro quanto era successo e fornendo i particolari sull'aggressore. Da lì a poco è stato rintracciato ed arrestato. Si tratta di uno straniero, Valentin Birnat, di 55 anni. Operazione Movida Sicura. Nel fine settimana ad Agrigento in azione una trentina di carabinieri anche del nucleo antisofisticazioni e nucleo espettorato del lavoro nel centro storico e nel luogo di ritrovo dei giovani. Elevate una decina di sanzioni al codice della strada ma soprattutto i controlli effettuati nei pubblici locali hanno portato alla denuncia del titolare di un'attività per mancato rispetto delle norme sull'igiene nella preparazione degli alimenti e alla scoperta di due lavoratori in nero all'interno di un altro locale. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 30.000 euro. Cambiamo argomento. È stato presentato ieri il progetto Sciacca Cinque Sensi che mette insieme operatori commerciali e non del centro storico in favore della promozione di quella zona come un museo diffuso. Sentiamo. www.museodiffusosciacca.it Questo è il sito web che da ieri è online frutto del progetto Sciacca Città dei Cinque Sensi presentato ieri nell'atrio superiore del comune. Una iniziativa che ha riunito due mesi fa un variegato numero di persone tra professionisti, artigiani, commercianti, esperti di informatica ma anche club service, associazioni, circoli, guide turistiche e aziende di diversi settori. Un lavoro di squadra che prendendo consigli da Alessandro Cacciato consulente per la digitalizzazione delle imprese scrittore del libro Il Sud Vola nonché consulente del Farm Cultural Park il parco culturale a Favara ha condotto uno studio sulle risorse e potenzialità che Sciacca ha e convertito questa in opportunità e sviluppo per una nuova visione di città smart. SOS Centro Storico Su questo si è focalizzata l'attenzione del gruppo di lavoro ma con un concetto completamente diverso il Centro Storico appunto nonostante i notorio atavici di servizi e problematiche è e resta un'opportunità da cogliere e da valorizzare per sviluppare, arricchire, ripartire e dare una spinta ad una città che necessita di una nuova identità. Così nasce Sciacca Ecomuseo Diffuso e a cielo aperto un viaggio attraverso i Cinque Sensi gustare le specialità enogastronomiche con tanto di ricetta e consigli su e dove poter mangiare con indicati ristoranti che man mano aderiranno al servizio web osservare i monumenti e la storia attraverso dei video della città ascoltare i racconti sulle vicende che hanno segnato la storia come il caso di Sciacca respirare i profumi della nostra terra e toccare con mano l'artigianato che la contraddistingue come la ceramica e il corallo Nel sito infatti è stata prevista la possibilità di visitare le botteghe artigiane ed essere protagonisti anche alla realizzazione del manufatto in ceramica o apprendere la lavorazione del corallo dai maestri corallari Un'area del sito è stata dedicata anche alla promozione degli acquisti nelle attività commerciali disseminate all'interno degli itinerari ed esperienze proposti e eventi che si svolgeranno in città insomma dei percorsi turistici online per conoscere e visitare Sciaccamo soprattutto creare opportunità di sviluppo e crescita sfruttando gli strumenti innovativi quali il web, audio guide, studi grafici e soprattutto creando un brand il marchio della città dai 5 sensi Da oggi è possibile anche scaricare nel proprio smartphone o tablet l'applicazione Zappar anche questo strumento innovativo per una città portata di mano Sciacca Ecomuseo dai 5 sensi un progetto ambizioso che si è concluso proprio il 24 marzo dopo due mesi esatti di incontri per obiettivi semplici e realizzabili che ha accomunato tante realtà legati da un unico comune denominatore l'amore per la città e la voglia di farla conoscere nei suoi aspetti migliori e unici valorizzarla farne sentire gli odori e i sapori immergere il turista in un museo diffuso e sensoriale ma soprattutto per dare nuova linfa e voglia di andare avanti in questa città in diversi settori dall'artigianato al commercio dalla cultura al turismo Il nostro obiettivo è quello di fare rete contro ogni differenza politica lo ha detto ai nostri microfoni Viviana Rizzuto una delle animatrici del progetto Sciacca 5 sensi ascoltiamola Viviana Rizzuto da oggi parte questo museo diffuso della città di Sciacca ecco il museo diffuso già esisteva perché tutte queste cose la bottega di ceramica i laboratori di corallo tutti i vari percorsi che sono stati sviluppati e le varie esperienze che sono state messe nel sito in realtà esistevano già noi semplicemente abbiamo fatto rete abbiamo chiesto di sviluppare dei pacchetti e le abbiamo chiesto perché le risorse appunto esistevano abbiamo trovato insomma un gruppo che si è formato in pochissimo tempo affiatato e ognuno ha messo del proprio e in poco tempo in due mesi come avete visto abbiamo realizzato un sito web con i contenuti importanti quindi dei percorsi storico, culturali, artistici con delle audioguide registrate dalla nostra guida turistica Vital Bacraparo da storiche come Lucia Stefanetti ognuno ha messo proprio contributo le potenzialità c'erano bisognava forse una regia per metterli tutti insieme Sì, una regia è soprattutto un metodo un metodo di lavoro noi abbiamo utilizzato un metodo che si usa nelle start-up in genere quindi metodi aziendali abbiamo lavorato con dei post-it per passare proprio dalle idee alle azioni quindi un tavolo operativo e concreto Da oggi quindi www.museodiffusoshacca.it Cosa bisogna fare adesso per far veicolare diciamo questa vostra iniziativa? A partire da domani vogliamo dare una forma giuridica a questo gruppo non l'abbiamo fatto prima perché è un gruppo aperto quindi intanto vediamo chi vuole aderire chiunque può dare un contributo a livello proprio di competenze di esperienze quando capiremo quanti siamo quali sono le risorse a quel punto ma questo accadrà nei prossimi giorni il primo step da fare è quello di dare una forma giuridica a tutto questo Steve Jobs non è mandato in tv per dire io voglio creare voglio fare no, prima ha creato dopo aver creato è andato in televisione per dire ho creato ho fatto questo quindi questo è il messaggio che vogliamo anche dare prima ci siamo riuniti per capire ci riusciamo a fare lo possiamo fare abbiamo creato sito, app, audio guide uno studio grafico e dopo che è stato realizzato stiamo dicendo stiamo regalando questi strumenti alla collettività le cose sono state fatte e il messaggio molto più importante la rete c'è quindi è possibile andare oltre le ideologie politiche i gusti, interessi personali le possibili antipatie e simpatie tra gli uni e gli altri per fare per essere uniti attorno a un obiettivo come si fa in azienda un ultimo appunto l'avete fatta questa vostra diciamo presentazione nella trio comunale come vi interponerete adesso con diciamo chi di competenza? allora intanto sin dal primo giorno quando è stato costituito il primo tavolo di lavoro l'assessore Tulone è stato non solo invitato ma anche reso partecipe siccome non è potuto venire io ricordo lo stesso giorno del primo incontro gli ho dato un feedback del lavoro perché è importante che l'amministrazione sia parte integrante del gruppo ognuno di noi mette in campo le proprie competenze e come avete visto abbiamo portato avanti delle proposte smart cioè realizzabili con le risorse che abbiamo è evidente che l'amministrazione che deve essere assolutamente tanto che ringraziamo ci ha dato il patrocinio fino a ieri eravamo al telefono con l'assessore Leonte insomma in piena armonia se l'amministrazione vuole fare parte di questo gruppo è proprio quello che si auspica acqua più nera del solito sulle rive dello stazzone sono state pubblicate su facebook alcune immagini girate da un drone che rivelano una condizione che conferma come il Can Salamone continua ad essere uno dei luoghi più vulnerabili per la città dal punto di vista ambientale vediamo l'importanza degli attesi interventi da 10 milioni di euro in favore tra l'altro della realizzazione del secondo modulo del depuratore comunale di Sciacca sta tutta in queste immagini riprese da un drone pubblicate su facebook il colore nerastro delle acque sulla riva dello stazzone indica in maniera a dir poco drammatica ciò che purtroppo non riesce più nemmeno a sorprendere stiamo parlando infatti dello sversamento del reflui fognari che provengono da quel torrente a Can Salamone che per i limiti allo sviluppo economico e turistico è croce e delizia della stessa identità di Sciacca attenzione non c'era certamente bisogno di queste immagini per sapere cosa accade alle acque e reflui di diverse zone soprattutto ferraro e segnazza ma non solo a queste un colore scuro che negli ultimi giorni però sembrerebbe ancora più scuro una condizione ormai assolutamente inaccettabile perché nettamente in conflitto con la disponibilità di un impianto di depurazione che dovrebbe essere funzionante un tema che tuttavia non riesce ancora a coprire l'intero territorio comunale di Sciacca gli interventi sono come noto organizzati dal supercommissario per le acque Enrico Rolle e dovrebbero essere sbloccati stando alle notizie rese note dallo stesso sindaco di Sciacca Francesca Valenti in tempi piuttosto brevi il secondo modulo del depuratore fa il paio coi lavori per il secondo stralcio funzionale del piano di attuazione della rete fognante obiettivo garantire lo smaltimento del reflui nelle zone tuttora scoperte la prospettiva finale è che gli scarichi in mare attraverso il canzalamone ma anche attraverso gli altri torrenti tra cui lo stesso foce di mezzo che negli ultimi anni si è rivelato particolarmente vulnerabile malgrado qui dovrebbero venire sversate solo le acque reflui già depurate vadano verso la normalità la sistemazione del depuratore potrebbe anche far tornare balneabili aree storiche tra le spiagge di Sciacca tra cui lo stesso Lido Salus che da oltre 25 anni non è più ufficialmente balneabile malgrado il tratto stazione Lido sia in buona sostanza l'unico arenile collegato al centro urbano che poi è proprio questa la ragione della non balneabilità ma per crescere turisticamente bisogna superare gli ultimi step necessari se non ci fossero né progetti né soldi per realizzare le opere ci sarebbe davvero di che disperarsi per fortuna su questi aspetti ci siamo a confermare una condizione complessa sul piano ambientale allo stazione e anche un reportage fotografico pubblicato dal Corriere di Sciacca che conferma una condizione a dir poco assurda ma dal fronte Can Salamone il colore delle acque sversate addirittura non è sempre solo nero no in qualche caso è bianco che più bianco non si può come rivelano queste altre fotografie che ci sono state inviate da un nostro telespettatore in questa situazione potrebbero essere scarichi industriali situazione da risolvere soprattutto nell'ottica di vedere un giorno da quelle parti acque che finalmente siano solo trasparenti e a proposito di acqua di altro genere però quattro mesi senza acqua sembra incredibile ma è quanto succede in località San Giorgio con i residenti che hanno diffidato il gestore a ripristinare immediatamente l'erogazione idrica hanno anche chiesto l'intervento del sindaco di Sciacca e del prefetto di Agrigento sentiamo dai primi di novembre non ricevono l'acqua nonostante i vari solleciti la situazione non è cambiata e quanto denunciano i residenti di Contrada San Giorgio che già nello scorso mese di febbraio avevano inviato una diffida a Girgentiacque a fronte di un disservizio che perdurava da tempo nessuna risposta ma soprattutto nessun intervento risolutivo ormai da quattro mesi la località balneare le prese con la mancata erogazione dell'acqua nonostante sia dotata della rete idrica impianto preso in carica da Girgentiacque a partire dal 2009 paghiamo regolarmente un servizio del quale non usufruiamo dallo scorso mese di novembre hanno scritto i residenti nell'ennesima diffida inoltrata al gestore e per conoscenza anche al sindaco del comune di Sciacca e al prefetto di Agrigento che vengono sollecitate ad intervenire affinché Girgentiacque ripristini l'erogazione idrica nella zona ci mancava solo questa aggiunge il presidente del comitato di località San Giorgio Bianca Raffaella Osso alle note problematiche relativa alla viabilità all'erossione della costa e alla questione dei rifiuti si è aggiunta anche la ancora più grave mancata erogazione dell'acqua la preoccupazione è legata ovviamente all'imminente stagione estiva con la località San Giorgio che si popola dei tanti che si trasferiscono nelle seconde case ma anche dei turisti vista la presenza di strutture ricettive finora quanti vi risiedono stabilmente hanno fatto ricorso all'acquisto di acqua dai privati tramite autobotti aggiungendo dunque anche tale costo al canone fisso di Girgentiacque ma tutto ciò è inaccettabile con l'arrivo della bella stagione se la situazione non cambierà si andrà incontro a gravi problemi anche di natura igienico-sanitaria c'è rabbia ed esasperazione per un disservizio al quale nonostante siano passati quattro mesi non è stato ancora posto rimedio il comitato di località San Giorgio annuncia di essere pronto ad intraprendere azioni legali nuovo sitin di protesta per gli agricoltori del Belice dopo quelli già portati avanti nelle settimane scorse domani si terrà un corteo di trattori che partirà dal Bivio Gulfa di Santa Margherita a Belice e si dirigerà attraverso la statale 624 in direzione Bivio Misilbesi fino ad arrivare nel centro abitato di Menfi la partenza del corteo dal Bivio Gulfa è prevista per le 9.30 per arrivare a Menfi alle 12 dove il presidio sarà permanente fino alle ore 17 circa l'iniziativa di protesta è stata autorizzata dalla Questura di Agrigento la manifestazione è organizzata per protestare contro il governo regionale e nazionale che non hanno dato alcun riscontro alle richieste del mondo agricolo in merito all'eliminazione delle accise sul gasolio sulla commercializzazione e sul costo del latte e dei prodotti agricoli è la prima volta che la Questura di Agrigento è guidata da una donna e la Cigella ha voluto rimarcare anche questa novità nella nota trasmessa a Rosa Maria Iraci con la quale il responsabile provinciale del sindacato augura un proficuo lavoro al nuovo questore auspicando un proficuo rapporto anche di collaborazione ha preso il via sabato scorso la missione popolare dei frati Cappuccini una delegazione di 50 frati porterà avanti in città diverse iniziative di evangelizzazione i religiosi sono stati accolti dalla comunità saccense sabato scorso all'interno della chiesa Beata Maria Vergine di Fatima dove saranno custodite fino a domenica prossima anche le spoglie di San Bernardo da Corleone primo momento di lode e animazione sabato scorso in piazza Scandaleato mentre ieri è stato intitolato il piazzale antistante alla chiesa a Fra Ludovico da Castel Termini vediamo grande partecipazione d'accoglienza da parte dei fedeli di Sciacca nei confronti dei frati Cappuccini che per una settimana fino a domenica 31 marzo porteranno avanti numerose iniziative di evangelizzazione in città Amati e Chiamati alla Santità il titolo della missione popolare che ha preso il via sabato scorso con il raduno dei missionari presso il convento dei Cappuccini con l'arrivo alla chiesa Beata Maria Vergine di Fatima del corpo di San Bernardo da Corleone che sarà custodito in chiesa fino alla conclusione della missione tanti i fedeli presenti alla cerimonia a cui hanno preso parte anche i tanti bambini del catechismo accolta nel pomeriggio la delegazione che in serata si è riversata in piazzangelo scandaliato per un momento di gioia e di lode fedeli e passanti sono stati coinvolti in prima persona in canti musica dal vivo e preghiere anche tenendosi per mano in un grande cerchio animando l'intera piazza la missione popolare dei frati ha preso poi ufficialmente il via ieri pomeriggio con la Santa Messa preseduta dal vicario generale dell'Arcidiocesi di Agrigento Monsignor Melchiorre Vutera che ha dato mandato ai missionari a conclusione della Santa Messa altro importante momento per la comunità intitolato alla presenza del sindaco Francesca Valenti e delle autorità civili e militari il piazzale antistante la chiesa dei Cappuccini affrà Ludovico da Castel Termini il primo frate che riaprì il convento e che si dedicò al culto della Madonna di Fatima Le tante iniziative di evangelizzazione in programma continueranno nei prossimi giorni non solo in parrocchia ma di casa in casa nelle scuole e nei luoghi di cura per annunciare la buona notizia a chi cerca il senso della vita e spesso lontano dalla chiesa Un pomeriggio di allegria e spensieratezza il carnevale di Sciacca è arrivato all'interno della Casa Albergo per Anziani di Contrade Sabella sabato scorso su iniziativa dell'associazione Ora li fermi tu gli anziani ospiti della struttura e i loro familiari hanno potuto assistere alla recita del copione del carro allegorico La bufala non è vero ma ci credo scritto da Pippo Graffeo e portato in scena da Mariolina Piazza Enzo Bongiovi Anna Rita Maretta Emanuela Scaduto e Anita Lorefice ad esibirsi anche una rappresentanza del gruppo mascherato capitanato da Alessandro Rizzuto e Alessio Tortorici una iniziativa particolarmente apprezzata dagli anziani ospiti della struttura ai quali Pippo Graffeo ha promesso di portare altri momenti di spettacolo e di allegria Una lotteria autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'acquisto di un ecocardiografo pediatrico portatile di ultima generazione da donare all'unità operativa di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Sciacca è l'ultima iniziativa dell'associazione Orassio Capurro Amore per la vita vediamo di cosa si tratta Altra iniziativa dell'associazione Orassio Capurro Amore per la vita in favore dell'ospedale di Sciacca dell'unità operativa di pediatria e neonatologia si tratta di una lotteria finalizzata all'acquisto di un ecocardiografo pediatrico portatile di ultima generazione un macchinario che ha un costo molto elevato superiore ai 20.000 euro che permetterebbe al reparto di pediatria del Giovanni Paolo II di effettuare la diagnosi precoce delle cardiopatie congenite nel neonato ma anche di altre problematiche cardiache nell'età evolutiva per migliorare ancora di più l'assistenza sanitaria l'associazione Orassio Capurro Amore per la vita già nei mesi scorsi ha donato al reparto una incubatrice di ultima generazione e adesso con quest'altra iniziativa mira ad aumentare lo standard tecnologico e delle prestazioni nel nostro comio saccenze evitando così ai piccoli il trasferimento verso altri ospedali della Sicilia chi acquista un biglietto al costo di un euro contribuirà alla realizzazione del progetto che ha già ottenuto la disponibilità di alcune aziende ma ovviamente il costo dell'apparecchiatura è elevato per cui l'associazione Capurro confida nell'adesione di altri sponsor nella partecipazione alla lotteria chi acquisterà il biglietto parteciperà all'estrazione di un tablet Apple i biglietti sono già disponibili presso l'ufficio turistico del comune di Sciacca e a breve anche in diverse attività commerciali della città sabato 30 marzo sarà possibile acquistarli durante la cerimonia di consegna del premio alla solidarietà che si svolgerà alle ore 17 in Sala Blasco e domenica 31 saranno disponibili anche allo stadio comunale Gurrera è sempre l'associazione Arassio Capurro Amore per la vita svolgerà a partire da domani uno screening gratuito sull'ambliopia presso le ultime classi della scuola dell'infanzia e le prime e le seconde classi della scuola primaria dell'istituto comprensivo Dante Ligieri di Sciacca 200 i bimbi che verranno sottoposti a visita oculistica grazie alla disponibilità della dottoressa Maria Chiara Venezia ortottista che effettuerà appunto lo screening si inizierà domani dal plesso Magnole si è parlato di stalking questa mattina aliceo classico Tommaso Fazzello di Sciacca in un incontro a cui hanno relazionato il giudice del tribunale di Sciacca Alberto Davico e il presidente emerito della corte d'appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale sentiamo stalking i pericoli e la giurisprudenza incontro questa mattina all'aula magna del liceo classico Fazzello rivolto agli studenti ed avvocati un approfondimento sul tema cui hanno relazionato il giudice del tribunale di Sciacca Alberto Davico e il presidente merito della corte d'appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale chi è il molestatore del rifiutato? colui che si oppone alla fine di una relazione intima che non riesce ad accettare l'abbandono del partner quando voi non accettate perché la vostra fidanzatina non sta più con voi e si mette con un altro pone in atto la sua persecuzione in alternativa di ristabilire il rapporto ma non è questo il sistema per ristabilire un rapporto poi abbiamo il molestatore rancoroso chi è è colui che vuole vendicarsi di un dotto che ritiene davvero subito da parte della vittima terza figura il molestatore predatore che prepara con cura l'attacco nei confronti della vittima che spesso si conclude con la violenza sessuale poi abbiamo il molestatore inadeguato o incompetente che è il soggetto che desiste facilmente cioè cerca un obiettivo la segue ma desiste facilmente quando si accorge che non può essere raggiunto lo scopo l'obiettivo che si era previsto allora cambia vittima e perseguita un altro desidenziato o desidenziato ecco da un punto di vista scientifico queste sono le figure tipiche del molestatore il convegno il convegno rientra nell'ambito delle iniziative di educazione alla legalità e delle attività relative a cittadinanza e costituzione portate avanti dall'istituto con il sostegno del locale Rotary Club la Camera Penale Arone di Sciacca e l'Ordine degli Avvocati e siamo ai consigli della Mondadori Florent Claude Labrust è un 46enne funzionario del Ministero dell'Agricoltura vive una relazione ormai al tramonto con una torbida donna giapponese più giovane di lui con la quale condivide un appartamento in un anonimo grattacielo della periferia di Parigi l'incalzante depressione induce Florent Claude all'assunzione in dosi sempre più intense di Captorix grazie al quale affronta la vita un amore perduto che vorrebbe ritrovare la crisi dell'industria agricola francese che non resiste alla globalizzazione la deriva della classe media una vitalità rinnovata ogni volta grazie al Captorix che chiede tuttavia un sacrificio uno solo che pochi uomini sarebbero disposti ad accettare Serotonina di Michelle Hulbeck Edito Mondadori Calcio seconda sconfitta in campionato per l'Unitas Sciacca che a Mazzara del Vallo cede per 2-0 contro i padroni di casa nessun dramma in casa Nero Verde che già domenica prossima al Gurrera potrebbero festeggiare la matematica vittoria del torneo e promozione in zona salvezza sconfitta casalinga per Real Menfi travolto dal Gibellina sentiamo seconda sconfitta seconda sconfitta stagionale per l'Unitas Sciacca che ha perso per 2-0 contro la Mazzarese al Nino Vaccarra di Mazzara del Vallo una battuta del resto che ci può stare e che non scalfisce minimamente le certezze della società Nero Verde le due reti dei padroni di casa sono state siglate nel primo tempo da Campisi e Barraco eppure i seccensi avevano cominciato bene la partita colpendo anche un palo con il solito galluzzo poi sotto di due reti e in inferiorità numerica per l'espulsione di Sant'Angelo non sono riusciti più a reagire preferendo nel secondo tempo evitare di subire altre marcature forse a prevalere sono state le motivazioni i Nero Verdi sono sempre in testa al campionato di prima categoria con 9 punti di vantaggio e basterà ottenere una vittoria in una delle prossime 4 partite che mancano a finire il torneo per festeggiare la matematica promozione per la mazzarese invece i tre punti conquistati contro lo Sciacca hanno determinato la salvezza diretta dopo un campionato di sofferenza il match dell'unitas si è giocato sabato pomeriggio così come quello del Real Menfi superato in casa per 1 a 3 dal Gibellina in quello che era l'ennesimo scontro diretto per la salvezza per i menfitani in gol Fofonà mentre per gli ospiti Reti di Di Giuseppe Zummo e Calia per i ragazzi di Mister Vitualesi raggiungere la salvezza diretta si fa sempre più difficile seppur la principale rivale ossia il San Giorgio Piana disti appena 6 lunghezze a 4 turni dalla fine del campionato in zona play-out oltre al Real Menfi resta il Belmonte Mezzagno mentre il Colomba Bianca Palermo è già retrocesso da tempo questi tutti i risultati della ventiduesima giornata Mazzarese Unitas Sciacca 2 a 0 Real Menfi Gibellina 1 a 3 Carini Palermo Calcio Popolare 2 a 2 Risottona San Lorenzo Belmonte Mezzagno 3 a 1 San Giorgio Piana San Vitolo Capo 0 a 2 Valderice Colomba Bianca 3 a 0 Fulgatore Cinisi 2 a 0 in classifica Sciacca primo con 50 punti secondi San Vitolo Capo e Palermo Calcio Popolare con 41 in lotta per la zona playoff anche Fulgatore Risottona San Lorenzo Cinisi e Carini Ancora sport diversi atleti saccensi hanno gareggiato le gare podistiche che si sono svolte ieri a Palermo e a Enna vi hanno preso parte le tre società locali Marathon Club Agato Glettartaruga Giuseppe Marciante a Palermo e Ivano Nicolosi a Enna i migliori performance sentiamo podisti saccensi impegnati ieri in due gare a Palermo e Enna più di 25.000 persone tra la competitiva e la passeggiata ludico-motoria per la quarta edizione dell'Astra Palermo svoltasi per le vie del centro storico la gara competitiva sulla distanza dei 9 chilometri è stata valida come prima prova del campionato super prestigi 2019 seicento gli atleti premiati e fine crono run con una coppa il percorso di gara è stato un anello di 3 chilometri da ripetersi tre volte ricavato tra le bellezze architettoniche di via Roma via Maqueda e via Cavour in mattinata il via della passeggiata ludico-motoria con i bambini che sono partiti attraversando i grandi archi posizionati in via Cavour per la gara agonistica non ci sono stati né vincitori né vinti nessuna premiazione per gli assoluti o per le categorie è stata assillata soltanto una classifica generale con i tempi di arrivo in ordine alfabetico a dimostrazione dello spirito di festa della manifestazione tutti gli arrivati sono stati omaggiati con una coppa e con una medaglia sciacca presente a Palermo con la tartaruga la gatocle e la marathon club esordio per il giovane Neneo Cordaro che ha corso la gara insieme al papà Calogero entrambi tesserati con la gatocle in gara Giuseppe Marciante Felice Barone Salvatore Lentini Calogero Cordaro Nene Cordaro Salvatore Filippo La Rosa Giuseppe Mangiaracina Andrea Di Giovanna e Calogero Attardi tutti con buoni risultati circa 700 atleti invece hanno partecipato alla non edizione della mezza maratona cittadienna sulla pista dell'autodromo di Pergusa percorso omologato Fidal Gianfranco Ucciardo e Maria Grazia Bilello i vincitori della mezza maratona Sciacca Pergusa era presente con ben 15 corridori compresi Pippo Piazza e Alberto Indelicato dell'Atlon Libera il migliore dei seccensi è stato Ivano Nicolosi della Marathon Club l'unica seccensa in premiazione è stata Rosaria Chiaramonte della gatocle giunta seconda nella categoria SM60 per la tartaruga da segnalare l'esordio con i colori sociali di Carmelo Maniglia che chiude la gara in un'ora e 33 minuti prossimo appuntamento con la quarta prova del Grand Prix regionale di mezza maratona il 7 aprile a Gela con la maratonina denominata dei due golfi è tutto per questa edizione grazie ancora una volta per essere stati con noi appuntamento alle prossime grazie a tutti